L'Aggiunta regionale ha approvato su proposta dell'assessore alle politiche agricole Mauro Febbo il bando pubblico per l'attivazione della misura 3.1.1 diversificazione verso attività non agricole, azione 1, investimenti in azienda per attività agrituristica per un importo totale di 20.700.000 euro. In dettaglio prevede investimenti in azienda agrituristica comprendenti la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di fabbricati già a servizio dell'azienda agricola al fine di realizzare ed allestire sia nuovi alloggi agrituristici sia punti di ristoro. Inoltre il finanziamento prevede la possibilità di realizzare piazzole di sosta per caravan e camper, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione di spazi esterni all'azienda agrituristica con parcheggi, autovetture, giardini, illuminazione, sistemazione e viabilità aziendale al fine di facilitare la fruizione da parte degli ospiti alloggiati, laboratori polifunzionali, dispense, locali per la degustazione dei prodotti aziendali offerti ai visitatori, lo sviluppo di attività didattiche, culturali, sportive e ricreative, di artigianato rurale e non agricolo, escursionistiche, di ipoturismo, svolte nel mondo rurale a favore anche di utenti diversamente abili, bambini in età prescolare ed anziani. L'azione sarà applicata nelle aree collinarie e montane ed è rivolta agli imprenditori agricoli nella forma di impresa singola e associata. È un passaggio molto atteso e fondamentale per la nostra azione di governo, il commento dell'assessore Mauro Febbo.